Studio 7 TV e Sport Picciano Game presentano l'intervista di Pietro Ospite della puntata Benvenuti a una puntata, abbiamo ospite una scrittrice, Anna Danca e a questo punto la prima domanda per chi non conosce la scrittrice, la donna che c'è dietro se dovessi descrivere oggi chi è Anna, come la descriveresti? E soprattutto se dovessi utilizzarla poi in un libro come inseriresti questo personaggio? Buonasera, ciao a tutti voi grazie Pietro per la possibilità di poter descrivere la mia persona ma anche le mie opere la persona che avete oggi davanti o dietro lo schermo è una persona nuova una persona rinatta grazie a un cammino, un percorso di silenzio in quale io metto per il scritto dando voce a tutto questo percorso parliamo dell'ultimo libro la voce del silenzio che poi in realtà chiude una trilogia di opere che raccontano un pochettino un po' tra le parti importanti di una persona come nasce, come va a chiudere quest'opera questo discorso come è stato realizzato questa parte come sei arrivata a questo risultato finale di quest'opera? quest'opera infatti fa parte da una trilogia e l'ho chiamata l'opera della bellezza perché nasce in seguito alle cose che ho avuto prima della rinascita mica a caso ho scritto la prima opera Come vuole la vita che è la cosiddetta l'opera del bene dove narro tutta una battaglia diciamola così tra bene e il male e alla fine vince il bene la seconda opera è l'opera della verità patria interiore e non altro la verità della mia esistenza qui perché io non sono di origine italiana sono straniera vengo dalla Romania nata, cresciuta sotto un regime comunista dittatoriale dove sappiamo benissimo come ti segnano nell'anima, nel corpo e nella mente questo regime sotto la dittatura lì dopo il crollo del regime ho deciso di interprendere un percorso non tanto per me ma per i miei figli verso un paese libero, democratico dove i miei figli possono avere la possibilità di imparare lingue straniere cose che dal mio paese prima era vietato se dovevo fare in privato dovevo farlo di nascosto nelle cantine con le finestre oscurate fingendo che magari chissà che lavori facciamo dentro per imparare una parola o due di inglese intanto per dire quindi non era proprio una vita facile non l'ho avuta io e non hanno avuto i miei genitori ma volevo dare ai figli un futuro migliore un pensiero libero un paese democratico io ho scelto questo paese ho cominciato il percorso avviarmi in questo paese integrarmi nel 1993 quindi sono quasi 30 anni che sono a Mantova dove lavoro e scrivo adesso mi dedico a tante altre cose ho deciso di condividere questa storia per far capire alle tante persone come me che si avviano in questo percorso di farlo con pazienza con silenzio e con determinazione seguire i loro sogni anche se devono costruirsi una nuova identità una nuova persona lasciare tutto che era di bello o brutto prima di venire in questo paese poi nasce in seguito a tutto questo che ho già spiegato prima do vita a questa opera della bellezza anche se dentro troviamo due storie che non sono proprio così lette sembra una cosa alla leggera ma non lo sono sono due storie importanti in cui io mi trovo in grosse difficoltà torno da un viaggio abbastanza difficoltoso dove vado per presentare uno dei miei libri e mi trovo spaesata sola sulle ferrovie dello Stato nelle stazioni dei treni senza collegamenti tra un paese e l'altro dove dalla Spezia a Parma a Modena perse tutti i collegamenti in cuore della notte su queste in queste stazioni dove sappiamo benissimo di quanto è difficile a trovarsi una donna in queste situazioni no? e però in tutto questo nasce una cosa bella nasce cosa che la voce tanto che mi interrogavo con le stelle con la luna dove vado come faccio ad arrivare a Mantova e da tutto questo all'improvviso da sotto il passaggio salta una voce giovane un ragazzo che mi si avvicina spunta proprio dal nulla chiedendomi dove voglio andare dico a Modena ma non si preoccupi a Modena vado anch'io e così iniziamo questo percorso non mi sarei mai aspettata di essere accompagnata di un ragazzo giovanissime che alla fine scopro anche non ha voluto lasciarmi nella stazione perché di notte è pericoloso ha chiamato sua mamma mi ha accompagnato mi hanno dato mi hanno ospitato quella notte in casa loro io per me è stata una roba che mai mi sarei aspettata mai mi sarei aspettata a trovare e conoscere tutte queste persone che alla fine scopro che anche loro sono stranieri erano filippini quindi trovo ospitalità trovo generosità sicurezza da un ragazzo giovane giovanissimo 23 anni che condivide con me tante le sue storie ma allo stesso tempo non vuole lasciarmi dormire rimanere in quelle condizioni abbastanza pericolose anche se a me tante persone che dormono non nelle stazioni dei treni accampate con le coperte di cartone e così via mi facevano soffrire io mi si spezzava il cuore vedendo come cercavano un riparo per stare un po' al caldo visto la notte di gelido che c'era quella sera lì finita questa storia racconto veramente proprio in tutto questo che a me mi è capitato di brutto racconto il bello ma bello bellissimo e arrivo a Mantova verso l'alba alla fine giorno dopo in giro di pochissimo tempo perdo il lavoro vengo licenziato con un foglio dove c'era scritto nulla tenente nulla dovuto era un lavoro dove io stavo dentro 18 anni sono entrata come babysitter da 5 figli 5 bambini in una famiglia a me colpisce molto lasciarti a casa con nulla dovuto perché perché all'epoca nei primi anni io non conoscevo la lingua italiana non conosceva i diritti non conoscevo tutto che quello che sta dietro un contratto di lavoro a me al momento serviva solo avere un posto di lavoro un contratto per quando sono venuta era permesso di soggiorno dopo non l'abbiamo avuto più dal 2007 quindi immagini che situazione drammatica che ho avuto perché dopo e mi sono trovata da oggi a domani senza lavoro con in frattempo ho perso mio marito avevo i figli erano studenti universitari quindi già loro si davano da fare perché insomma lavoravano studiavano facevano avanti indietro da Verona quindi durante l'università si sono diciamo in qualche modo anche mantenuti però le spese grosse erano sempre sulle mie spalle l'affitto così così via ma nonostante tutto anche da questo posto dopo 18 anni in giro di 24 ore perché era successo mi ricordo come si fosse venerdì venerdì mattina e venerdì sera io avevo già lavoro un numero di telefono e sabato mattina ho contattato la persona e in questo caso anche qui nasce il bello perché anche qui vengo a conoscenza di tante persone nuove di un altro posto di lavoro di un altro modo di vivere cioè perché inizio nel libro specifico in realtà il pensiero che mi porta a seguire questa strada che non è altro quello di Platone che dice il suo pensiero del bene verità e bellezza nasce proprio in seguito alle cose e la scrittura ti aiuta a liberare la mente alleggerisce l'anima e ti crea relazioni se prima ero tutta sola persa quando ho cominciato a pubblicare a scrivere mi sono appoggiata al foglio che nei miei scritti si trova con il nome l'amica immaginaria si chiama gioia e questa gioia me la dà proprio lei che mi fa conoscere incontrare persone nuove e alla fine la voce del silenzio non è altro che la nostra voce interiore che noi a volte magari presi dalla rabbia presi da tutta questa velocità del mondo che corriamo 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 dimentichiamo dimentichiamo un po' di fermarsi ogni tanto di ascoltarsi un po' di più un po' noi stessi un po' chi abbiamo a fianco il prossimo i figli e così via forse questo è anche un modo di vedere in modo diverso le cose il libro infatti scrivo e mi fa piacere ricordarti anche a te che nasce tutto da un percorso in età infantile perché tratto il libro si apre con questi ricordi dall'infanzia che avevo intorno 8-9 anni quando chiedo a mio papà chi accende le stelle e da lì nasce tutta questa questa luce dentro fino ancora oggi guardo il cielo guardo le stelle sono state sempre un mistero per me e da quella domanda mio papà cosa fa mi spiega la storiella che io la narro nel libro facendo un paragone a minatori cioè i minatori sono i angeli operai di Dio che adesso stanno scavando non cioè i minatori nelle montagne scavano per estrarre il carbone per riscaldare le case degli uomini durante l'inverno delle famiglie le persone e i minatori i angeli sono gli operai di Dio che scavano nel cuore delle persone estrarre l'amore il carbone più prezioso in un mondo così freddo che viviamo adesso poi la pandemia ci ha raggiunto il suo scopo perché ci ha chiuso proprio ci ha fatto diventare anche insomma un po' più eravamo magari un po' prima ma adesso con la tecnologia con la pandemia siamo diventati proprio solli o ciascuno per sé abbiamo paura anche per dare a me capita spesso nonostante ormai da 30 anni conosco tante persone oppure finisco il lavoro esco incontro il mio collega il mio titolare del lavoro do buongiorno e si gira subito buongiorno a me ma lei chi è e io cinque minuti fa l'ho visto quindi la mia il mio consiglio se posso dire così non è altro che fermarsi tornare un po' ad ascoltare dare un po' di spazio al silenzio per aiutarci a vedere le cose in modo diverso in modo positivo e con un occhio anche verso il prossimo non importa che questo può essere magari il nostro vicino di casa il nostro figlio la mamma la nonna e così via io poi avrei detto il titolo è appunto la voce del silenzio molto spesso noi quando intervistiamo i cantanti diciamo che quando ho gli attori quando qui sale sul parco inizialmente ha quel silenzio diciamo un silenzio che parla poi hai dato voce a quel silenzio che in fondo effettivamente hai detto bene perché vive il silenzio vive in noi ma lo rappresentiamo con quelle parole che forse a volte non riesciamo neanche dire ed esprimere bravo è proprio così infatti io questa voce a volte possiamo chiamarlo anche non è altro che una piccola luce una lampadina che si accende ogni tanto dentro di noi e ce l'abbiamo tutti volendo non volendo credenti o non credenti abbiamo tutti questi impulsi dentro di noi della voce siano di natura religiosa se vogliamo parlare di natura amichevole amorevole basta noi noi dobbiamo tirarla fuori noi dobbiamo metterlo in luce ecco a proposito della luce che parlavo prima perché veramente infatti tante canzoni sono nate scritte spesso concludono con il discorso che mi ha fatto vedere cose che mai mi sarei aspettato che è proprio così dopo la scopri magari un po' per quando sei giovane no magari non hai questa non hai tanto tempo non hai fretta di fare tutto e così via magari un po' andando avanti con l'età si inizia a scoprire sempre più questa diventa come una luce una voce saggia la saggetta perché noi spesso quando abbiamo i noni che ci danno un consiglio l'accogliamo tutto la nonna mi ha detto così vuol dire che è così non è altro che la sua voce interiore che l'abbiamo anche noi alcuni la lasciano fuori prima alcuni più tardi ma dipende tutto da noi tutto da noi tutto da noi perché ascoltandolo così secondo me saremo più meno freddi meno saremo più umani faremo una rete un po' più più calorosa ecco e parlando di bellezza tu rappresenti una bellezza che molto spesso più non si parla perché la bellezza non è esteriore ma molto spesso è una bellezza che si rappresenta con i gesti con piccole frasi piccole parole piccoli gesti che poi rappresentano un po' più il mondo vero di una bellezza che non è soltanto effimera perché poi nel tempo la bellezza non è che svanisce ma cambia aspetto esatto infatti questa io ho sempre detto che la bellezza può essere il nostro comportamento il nostro modo di usare le parole il nostro modo di usarlo anche senza parlare la bellezza la bellezza quando parlo non mi riferisco solo a quella esteriore perché tante persone magari si vedono sono belle fuori ma non sono belle dentro ma la bellezza fuori riesce a leggere nel viso quella dentro che non è così bello si vede la persona si identifica con la bellezza interiore li si vede in faccia diciamolo così un termine più pratico alle persone lo legge in viso la bellezza interiore quante volte usiamo questa espressione è proprio una bella persona li si vede in faccia perché viene da dentro questa bellezza viene da dentro e questa io la chiamo dopo mi piace come dice Platone fa parte questa bellezza interiore viene dal mondo delle idee dalla voce delle idee che abitano sopra il nostro corpo perché a noi piace pensare che il corpo è ineterno è sempre bello no il corpo è di natura materiale e muore l'anima che è la bellezza dell'uomo rimane e va al di là di questo mondo delle idee sta lì sopra di noi sopra il corpo e guarda le idee che ci fanno diventare belli no al di là sopra il cielo se vogliamo usare anche nella divinità no ci sono sopra dove sono c'è il Dio che sta lì e accoglie tutte queste anime belle e perché a volte dico che dipende da noi perché magari quando siamo arrabbiati che magari non succede cioè nella vita le cose non vanno proprio come vogliamo non ci rendiamo conto ma in quel momento l'anima cioè dà proprio allo stesso tempo sia il bello ma anche il peggio di sé perché perché non non riusciamo a lasciare quella porticina un attimino aperta che venisse fuori la bellezza sì è proprio mi piace parlare di questo sì invece vedendo la copertina non so se tu hai interagito nella sua realizzazione dove effettivamente sono fiori sembrano nuvole in un mondo cioè dove è la cosa più semplice ma anche più elegante nella sua rappresentazione grazie sì un po' le nuvole un po' i fiori perché perché come ti spiegavo prima da bambina io ho fatto la domanda a mio papà che ha acceso le stele e mio papà a quell'età ha capito cosa fa io diventerò da grande e fin da bambina lui mi ha aiutato tantissimo era difficile tempi durissimi durante il comunismo non avevamo neanche un giornale un pezzettino ci portava l'insegnante il professore a scuola e io tagliavo tutti i pezzettini dove trovavo dei articoli sul cielo sulle stele conservavo tutto avevo una cassettina una volta del cartone fatta proprio dove tenevo tutti questi articoli poi crescendo man mano che andava avanti mio papà proprio da un pezzettino di giornale strappato con con forza messo in tasca e trova una scuola dove mi accompagna e arrivare a studiare la meteorologia la natura i fiori così perché poi la copertina ha questo simbolo delle nuvole e dei fiori proprio la vita può essere scura a volte nuvolosa pesante ma può essere anche la primavera quindi si parte dal nuvolo al fiore oltre ai tanti momenti di tante descrizioni della natura perché in tutti questi percorsi che io ti dicevo del viaggio del papà della perdita di lavoro mi trovo nei posti dove non ho altro parlo con la natura o l'erba fiori piante mi sembrano che tutti partecipano alla mia sofferenza partecipano parlandomi che tutto passerà e domani sarà un altro giorno e così è stato tu hai detto appunto a volte quelle giornate in cui sembra tutto brutto c'è il cielo che ci accoglie ma soprattutto a volte un piccolo gesto un piccolo sorriso una piccola parola ti risolleva e ti tira su appunto nonostante la voce del silenzio ti crea una vita diversa e ti fa vedere il mondo soprattutto ti fa vedere quel cielo che effettivamente a volte sembra buio e poi ci sono tutte quelle luci che sono le stelle e ti rappresentano molto in più certo esatto esatto guardare il cielo non è altro che trovare quel attimo di serenità anche se sono le nuvole che a volte anche tra le nuvole penetra questa lucina e se riesci a vederla è tutta tua e ti accompagna allora e a questo punto io Dando ti ringrazio per essere stata ospite nostra ci vogliamo allora ci mancano due cose fondamentali allora dove poter comprare il libro e soprattutto i saluti fidali io ti ringrazio moltissimo Pietro è stato proprio non mi sono non accorta neanche del tempo una bella carrellata una bella un bello incontro una gioia immensa di parlare e con te ti ringrazio allora il mio libro si trova sia in cartaccio che in book e su tutte le piattaforme online nazionali delle librerie che ci sono ovunque università Mondadori IBS Feltrinelli Amazon il sito della casa editrice Gilgamesh e io sono sulla pagina facebook Anna Danka scrittrice Mantua se qualcuno desidera anche da me con la dedica lo faccio volentieri lo spedisco gratuitamente quindi è dappertutto la voce del silenzio parla ovunque ringrazio di nuovo a te a tutti i tuoi ascoltatori e auguro una buona lettura e che la voce vi guidi sempre studio 7 tv e sport picciano game hanno presentato l'intervista di pietro ospite della puntata di la voce di l'anima di di l'anima l'anima di Grazie per la visione!